Ma anche poi, come si usa il Toz? Cioè, devo sparare mirando o non mirando? Mirando sicuramente Entriamo un secondo qua dentro Oh, ciao Aspetta un attimo, va Per l'altra che è pazzita, fa un psicolabile di merda Oh, un car kit Ho trovato lì facca addosso a questo Spero ci sia qualche calcio Non c'è niente Vabbè, andiamo vicine da sti Scav, guarda Dagli amici scav Somma, che c'ho così, questi bimbi di freddo, non capisco Perché ti eccito Sicuramente A te sparano? Da dietro, sì Guarda, c'è un player che sta andando all'estrazione Una è dall'amministration gate L'altro mi sa che è a checkpoint Una era dall'amministration gate Però credo sia ormai in prossimità Ah, questi era andati da dire Allora Questa è qua dentro, poi ne entriamo Andare a provare a prendere quelli che straggono Sono morti Ok, io non ci vado Via Cazzo, cioè siamo stati lì Siamo spawnati cosati Sì, tempo di muoverci due secondi Cioè avrei provato se non avessi avuto un calcio Non ti preoccupa E vabbè, senti là Che cos'è Con calma Porca puttana come si sparano Oh mi porto questo questo lo devo vendere ok cazzo sento gli m4 le cose fortissime non sei contento no perchè non capisco bene dove sono questo m4 l'ho sentito lontanissimo ok mi sembra che sia al casto una minchia ok ok e compriamo i colpi andiamo ad andare dall m4 che sento ok 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 come faccio a sentirli così forti da solo mistero della tele ok 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 ce l'hai fatta coop no cioè ho ucciso un player e ho preso le sue cose sono tornato ai dormitori che ci sono i scappos e sta ancora sparando ah sei ancora in ride vai a vedere se riesco a fare qualcosa ma quanto manca per liberare ok ti ho visto amico ok ho scritto un mio cucino massimo ok 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 mi devi dire dov'è l'uscita ok 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 no no vado lì vado lì a posto raro to tarkov sarebbe dall'altra parte, sai dove c'è il raro to port, hai presente? non so, aia cazzo lo sto, ma fa 39, cioè via 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 ho ucciso un altro player che aveva lzsh con mirino, genu4, m4 m'ho dato, si ah, che tant'è ok ho quello con l'hp da 10 colpi ottimo così è grande, ho fatto bene a tornare indietro, vai così ho fatto bene a tornare indietro, vai così